Grande fratello, Kevini Shebabie e Jessica Vella sono tornati ufficialmente insieme È ritornato il sereno tra Kevini Shebabie e Jessica Vella. La coppia nata a grande fratello nel 2015 è tornata insieme dopo una separazione improvvisa e dolorosa Ma come si sono riconciliati? I due non erano rimasti in ottimi rapporti ma il modello di Padova, ha fatto il primo passo per tornare a costruire una relazione stabile con la gemella di Lidia Vella Dopo aver partecipato in vano a Uomini e Donne, ha presenziato a una sola puntata come corteggiatore di Sara Aftifella e Nilu Faradati Kevini ha capito di sentire la mancanza di Jessica, e di provare ancora un sentimento molto forte nei suoi confronti Così, il giorno del compleanno della Siciliana, il 27 novembre, Shebabie si è presentato sotto casa dell'ex fidanzata per chiarire la situazione Jessica e Kevin sono tornati di nuovo insieme.Nella mia vita stavano succedendo cose belle, e ho capito che l'unica persona con cui volevo condividerle era lei Ho fatto un esame di coscienza, ho riflettuto sui miei errori, e ho capito che cosa fosse giusto fare ha raccontato Kevin Shebabie al settimanale Nuovo TV Quando ci siamo visti, Jessica era fredda, distaccata. Abbiamo parlato a lungo. Io immagino un futuro insieme, questa volta per sempre ha aggiunto l'ex Jeffino Da parte mia c'è molta diffidenza. Lui, invece, è quello che si dà più da fare per ricostruire quello che avevamo cominciato, ha invece puntualizzato Jessica Kevin e il rapporto con la cognata Lidia Vella, punto Ritornando da Jessica Kevin ha ricucito anche un rapporto con la cognata Lidia Vella I due non hanno mai avuto un buon rapporto. Né dentro la casa del grande fratello né fuori Ma a quanto pare gli ex concorrenti del reality show di Canale 5 hanno trovato il modo per riappacificarsi È già da qualche mese che Lidia e Kevin si sono riavvicinati, ancor prima che lo facessimo io e lui Kevin è spesso a casa nostra e vedo che, ora, tra loro c'è molta complicità, ha assicurato Jessica Vella Jessica Vella rifatta Kevin cebavi apprezza, punto Qualche mese fa Jessica ha rifatto il seno insieme alla sorella Lidia Le due si sono sottoposte ad un intervento chirurgico con la complicità di pomeriggio 5 E Kevin apprezza molto le nuove forme della fidanzata, tanto da sottolineare. C'è più Pepe nel nostro rapporto Grande fratello Kevin e Jessica pronti per Temptation Island.Di nuovo innamorati Kevin e Jessica sono pronti a partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Lavella ha fatto sapere. Lancio una sfida a Maria De Chilippi. Se dovesse darci questa opportunità, le dimostreremo che nulla può più dividere questa coppia . .